Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietanti riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Louisiana, più precisamente nella famosa New Orleans. Con i suoi quasi 400.000 abitanti è un centro industriale molto importante per lo stato della Louisiana, ma è una città anche molto conosciuta nel resto del mondo per la sua eredità culturale. Parlo ovviamente di musica, cucina e il famosissimo carnevale di New Orleans. Nel 2012, anno in cui inizia il nostro caso, a New Orleans viveva anche la 23enne Jaren Lockhart. Jaren era nata nel 1989 dai suoi genitori Donna e Pitt. La sua era una famiglia allargata, molto numerosa, infatti aveva altri cinque fratelli. La sua infanzia purtroppo fu abbastanza caotica, non perché Donna e Pitt erano dei cattivi genitori, semplicemente la famiglia aveva delle gravi difficoltà economiche, in più erano chiaramente tanti figli, tante bocche da sfamare. Gli anni dell'infanzia e della prima adolescenza di Jaren furono caratterizzati da dei grossi problemi economici, parlo proprio di dover stringere la cinghia su cose tipo il cibo da mettere in tavola. Per questo motivo fin da giovanissima Jaren aveva lasciato il nido, si era trasferita a Tanjipawa, che ho pronunciato sicuramente in modo scorretto, che è un'area suburbana di New Orleans. Ed era davvero giovanissima a questo punto, parliamo di 15-16 anni, non era ancora ma Jaren e soprattutto andava ancora al liceo. Quegli anni infatti, come potete immaginare, non furono per niente facili per Jaren, chiaramente andava al liceo, quindi il tipo di lavoretti, part time che poteva fare, erano davvero limitati non solo a livello di tempo, perché frequentava il liceo, le lezioni come tutte, ma anche la tipologia di lavoro che poteva fare. Nonostante fosse giovanissima, aveva già preoccupazioni e responsabilità che solitamente le persone non affrontano prima di un'età adulta. Faceva davvero fatica ad arrivare a fine mese, ovviamente la sua preoccupazione più grande era quella di assicurarsi di avere un tetto sulla testa per il mese successivo. A scuola era una discreta studentessa, nonostante avesse in realtà davvero pochissimo tempo per studiare a casa, perché appunto doveva lavorare. Aveva un animo un po' d'artista, le piaceva tantissimo l'arte e in particolare la scrittura e la poesia. Le piaceva non solo leggere poesie, ma anche scriverle, ed era un po' il suo modo di esprimere i suoi sentimenti ed esternarli sulla carta. Un altro modo che aveva per esprimere la propria personalità era attraverso il trucco e la moda, lo stile in generale. Era una di quelle persone che magari una settimana aveva un colore di capelli, la settimana dopo aveva un altro colore. E' proprio in questo periodo che Jaren conosce un ragazzo di nome Jeremy Foster, con questo ragazzo fu abbastanza amore a prima vista e i due iniziarono fin da subito una relazione che durerà per i successivi otto anni. Jeremy e Jaren erano una coppia, almeno da quello che raccontano e che ricordano le persone che li conoscevano, meravigliosa. Li descrivono come di quelle coppie che davvero si vedeva, che tenevano tantissimo l'una all'altra. Da questa relazione nascerà anche una bambina che chiameranno Riley. Da un lato Jaren era davvero felicissima di essere diventata madre, era una cosa che avrebbe sempre voluto fare nella vita. Dall'altro aveva il terrore di non poter garantire a sua figlia una vita economicamente stabile. Chiaramente con tutto il trauma che aveva Jaren per come era cresciuta, con la sua famiglia, con le difficoltà economiche, aveva davvero paura e il terrore letteralmente di dare a sua figlia la stessa vita che aveva avuto lei. Infatti, proprio quando scopre di essere incinta di Riley, decide di iscriversi a un istituto dove poi avrebbe ottenuto un attestato per fare la cosmetologa. Pensavo all'inizio che fosse tipo estetista, invece ho cercato su internet e a quanto pare è proprio una specializzazione diversa. Fatto sta che nel 2012, anno in cui ci troviamo per il nostro caso, Jaren stava proprio terminando i suoi studi per questo attestato. Una volta ottenuto quel attestato avrebbe potuto fare la cosmetologa e si sarebbe trattato ovviamente di un lavoro molto più stabile e meglio pagato rispetto a quello che stava facendo in quel momento. In quel momento infatti aveva praticamente due lavori. Lavorava la mezza giornata in un bar che c'era vicino a casa sua, dove lavorava come barista. E poi nelle situazioni, nei giorni in cui prendeva poca mancia, come immagino già sappiate negli Stati Uniti, c'è sì una base di stipendio che ti danno ma è molto molto bassa e poi il grosso di quello che guadagni lo guadagni tramite le mance che ti lasciano. Chiaramente poteva capitare dei giorni dove faceva un po' di più e dei giorni dove faceva davvero poco, riceveva delle mance davvero basse. Nei giorni in cui le mance erano parecchio basse, andava poi la sera a lavorare in degli altri locali, ne girava un po' a seconda della giornata. Quello in cui passava più tempo in assoluto era un locale che si chiamava Temptation e in questo locale lavorava come ballerina. Erano quei locali prevalentemente frequentati da una clientela maschile. Da quanto ho letto non faceva proprio la spogliarellista, non so esattamente il termine giusto per descrivere quel tipo di lavoro perché in inglese lo chiamano ballerina. Comunque ballava semplicemente in questo locale. Essendo chiaramente molto impegnata a livello di lavoro perché aveva un lavoro la prima parte di giornata e poi lavorava praticamente tutta la notte, Lei e Jeremy avevano deciso di passare durante il tempo libero, insomma, che avevano tra un lavoro e l'altro con la figlia, Riley, però la portavano ogni sera a mangiare, a cena e poi a dormire dalla nonna paterna. Questa scelta ovviamente non solo per darle qualche senso, insomma, di stabilità, perché a questo punto la bambina aveva tre anni, quindi sicuramente non è più un neonato che magari non si rende conto della situazione intorno a sé, che poi secondo me anche i neonati qualche tipo di concezione magari ce l'hanno pure. In secondo luogo c'era anche dietro una ragione ovviamente economica perché in quel momento le cose economicamente per Jeremy e Jaren non stavano andando molto bene, infatti vivevano in un motel, che non era chiaramente proprio la situazione, la condizione ideale per una bambina così piccola. Tornando a Jaren, quel secondo lavoro, cioè che faceva quando non otteneva abbastanza mance, non le piaceva tanto, non era un lavoro che faceva volentieri, lo faceva proprio esclusivamente per una ragione economica. Non che ovviamente ci sia niente di male a fare quel lavoro, però per lei era così, era una cosa che faceva proprio solo quando sapeva che magari avrebbe dovuto pagare l'affitto a breve e sapeva di non avere già da parte abbastanza soldi. E così la sua vita procedette fino al giugno del 2012. Il 6 giugno era un mercoledì a metà settimana ed è stato un mercoledì fra tanti per la maggior parte degli abitanti di New Orleans. Jaren aveva fatto tutto il suo turno dalla prima mattinata fino al primo pomeriggio al locale, al bar dove lavorava e era stata una giornata, come purtroppo gliene erano capitate tante, in cui aveva fatto davvero pochi soldi con la mancia. Erano già indietro con l'affitto del mese precedente al motel, per la stanza del motel, quindi era in una situazione di grande pressione e questa cosa giocherà ovviamente un ruolo purtroppo nelle cose che accadranno. Quindi come tutte le altre giornate simili, decise di andare a lavorare a Temptation quella sera. Iniziò la serata come al solito verso le 19 e solitamente quando lavorava in quel locale, iniziava più o meno alle 19, finiva il turno solitamente intorno alle 2 del mattino. Il giorno dopo però il suo compagno Jeremy si svegliò presto come al solito per andare a lavorare e si accorse subito che di fianco a lui non c'era Jaren, cosa che lo fece immediatamente preoccupare perché non era mai capitato che Jaren non rientrasse a casa. Provò subito a chiamarla al telefono e non solo risultava spento ma non aveva neanche nessun messaggio di lei che lo avvisava per qualche motivo, insomma se era rimasta fuori a dormire, cosa che come potrete immaginare lo fece davvero preoccupare tantissimo. Contattò tutte le persone a cui poteva pensare, amici, parenti, conoscenti, nessuno sapeva dove potesse essere. Quindi nelle prime ore successive a questo momento lui e la famiglia sia di Jaren che quella di Jeremy la cercarono un po' ovunque, lui insieme a suo padre si presentarono anche al locale Temptation perché ovviamente Jeremy sapeva che la sera prima aveva lavorato lì. Purtroppo non riuscì a tirar fuori niente di che dalle persone che lavoravano a questo locale e purtroppo sarà una cosa ricorrente in questo caso. Quel tipo di locali solitamente non è la prima volta che ci capita, non dico che tutti i locali siano così però tendono un po' a non rilasciare informazioni su chi lavora lì e soprattutto i clienti quindi non diedero nessun tipo di informazione utile per capire cosa fosse accaduto a Jaren. Ovviamente sempre più preoccupati decisero di contattare la polizia e denunciare la scomparsa di Jaren. La polizia ci metterà un po' prima di iniziare effettivamente le indagini e purtroppo nelle ore successive, nei giorni successivi, la famiglia non poteva fare altro se non continuare a cercarla dove potevano e sperare che non fosse accaduto il peggio. Purtroppo però il peggio in realtà era già capitato. Alcune ore dopo, verso le 17.30, c'erano dei ragazzi che stavano facendo una passeggiata in una delle spiagge più periferiche a New Orleans. Stavano passeggiando normalmente quando uno di loro a un certo punto vede qualcosa nell'acqua proprio sul bagno asciuga praticamente di questa spiaggia si avvicinano e si rendono conto con terrore che si trattava di un torso umano. Ovviamente terrorizzati da questo ritrovamento scappano e chiamano subito la polizia. Ora parliamo di identificazione perché purtroppo l'identificazione di Jaren non fu immediata, fu tutt'altro che immediata. Come vi dicevo, in realtà ci metteranno un po' i poliziotti a iniziare delle effettive ricerche per Jaren quindi il suo nome non saltò subito all'occhio o all'orecchio, insomma, dei poliziotti per un eventuale riconoscimento. Come potete notare da una foto che vi farò mettere, Jaren aveva dei tatuaggi e dei piercing sulla zona del ventre. Solitamente tatuaggi e piercing sono alcuni degli elementi che possono aiutare un primo riconoscimento di un corpo che viene ritrovato perché quando tendenzialmente qualcuno va a denunciare la scomparsa di un'altra persona ti chiedono se ci sono delle cose riconoscibili su questa persona, appunto tipo tatuaggi, segni particolari, voglie, cicatrici grosse, tutte cose del genere. E infatti i parenti di Jaren avevano dato tutte queste descrizioni di Jaren però purtroppo, come vi dicevo, ancora quel caso non era passato all'attenzione generale della polizia. Piccola curiosità di questo caso, non so quanti di voi, lo so, cioè so che tanti di voi guardano ogni singolo video quindi sono sicura che tanti di voi se lo ricorderanno. All'inizio, in questo caso, il corpo di Jaren venne associato a un altro caso, un altro caso di cui io vi ho già parlato il caso di Michaela Shunik. Vi lascio una foto per ricordarvi se avete già visto il video e vi lascio anche il link al video se volete recuperarlo, insomma, dopo aver finito questo video. Inizialmente pensarono proprio a lei perché era scomparsa più o meno nei giorni intorno alla scomparsa di Jaren ed era abbastanza plausibile che si trovasse in quel punto lì per come stavano andando le indagini al tempo. Esclusero la possibilità, la probabilità che fosse effettivamente lei quando contattarono i familiari di Michaela e chiesero loro se quei tatuaggi che avevano trovato sul corpo potessero essere di Michaela e la famiglia disse che appunto no, non erano tatuaggi suoi quindi esclusero questa probabilità. Nei giorni successivi, lungo la costa, verranno ritrovati vari altri resti di Jaren compresi alcuni vestiti che indossava proprio la sera in cui era scomparsa. La connessione con il caso di scomparsa di Jaren viene fatta a una settimana. dal primo ritrovamento, quindi decisero ovviamente di fare un test del DNA che confermò finalmente l'identità di Jaren. La causa del decesso non fu confermata al 100% perché chiaramente avendo solo parte del corpo non era facile ovviamente scoprirlo ma secondo il medico legale era molto probabile che la causa del decesso fosse dovuta a un profondo taglio che aveva sul petto. Sempre dall'analisi viene anche fuori che in circolo Jaren avesse un qualche tipo di oppiacei comunque un tasso non abbastanza alto per poter ipotizzare che magari nel momento in cui era morta fosse sotto qualche svarione strano. In più anche ovviamente complice l'acqua che aveva lavato qualsiasi tipo di prova non trovarono nessuna traccia di DNA che non appartenesse a Jaren per poter indagare su qualcuno o anche semplicemente da tenere da parte per compararlo poi a dei possibili sospettati. Quindi senza molto su cui indagare a livello di prove decidono di ricostruire tutta l'ultima serata di Jaren. Già i familiari ovviamente di Jaren e anche il suo fidanzato avevano detto alla polizia che quella sera aveva lavorato a quel locale Temptation e che non erano riusciti ad avere molte informazioni dalle persone che lavoravano lì. Quindi la polizia decide di presentarsi al locale. Anche a loro purtroppo nessuno raccontò niente, probabilmente sempre per lo stesso motivo di cui parlavamo prima, però ovviamente richiesero i filmati di videosorveglianza, cosa che furono costretti a dargli. Dai filmati di videosorveglianza trovarono effettivamente Jaren. Aveva iniziato il turno verso le 19, come faceva sempre solitamente quando lavorava in quel locale. Aveva lavorato tutta la serata e poi se n'era andata verso le 2 del mattino. La cosa particolare, perché chiaramente a questo punto che fosse entrata le 19 e uscita alle 2, non era niente al di fuori della norma, erano più o meno gli orari che faceva sempre quando lavorava lì. L'unica cosa particolare era che non sembrava essere uscita dal locale da sola. Dal video si vedeva chiaramente Jaren uscire insieme a due persone, un uomo e una donna. Provarono a chiedere la loro identità alle persone che lavoravano al locale. Nessuno disse niente inizialmente, di nuovo probabilmente per lo stesso motivo, perché a questo punto in realtà le persone dicono di non averli mai visti prima, di non sapere chi fossero e poi verrà fuori che qualcuno in realtà li conosceva. In ogni caso a questo punto non dissero molto. Quindi cosa fece la polizia? Decise di prendere quelle immagini. È vero che non si vedevano bene le facce di queste due persone, però comunque ad esempio del maschio si vedeva un tatuaggio, si vedeva come erano vestiti, insomma magari qualcuno avrebbe potuto riconoscerli dalla base di quelle immagini. Quindi prendono queste immagini e le pubblicano, chiedono l'aiuto del pubblico, chiedono aiuto alle persone se qualcuno li riconoscesse. Il caso inizia quindi a essere abbastanza chiacchierato, soprattutto nell'opinione pubblica e inizia un po' quella cosa che inizia solitamente, almeno a me ha ricordato molto, quando ci sono stati purtroppo in passato dei casi dove un particolare serial killer prende di mira o ha come vittima tra virgolette tipo una certa categoria di persone. Adesso a me è venuto in mente un caso in cui c'è questo serial killer che sceglie vittime tra prostitute si crea ovviamente e giustamente anche una serie di panico tra queste persone qui perché finché quella persona che prende di mira un certo gruppo di persone è a piede libero ovviamente le persone che fanno parte di quel gruppo si sentono, cioè hanno paura di fare qualsiasi cosa, hanno paura di essere le prossime. Ed è esattamente un po' quello che si è scatenato in altre ragazze che lavoravano non solo in quel locale ma in generale in locali di New Orleans o comunque città circostanti. Quindi finalmente altre due ballerine si fanno avanti. Diranno alla polizia di non conoscere esattamente l'identità di quelle due persone, non sanno il nome, non sanno il cognome, non sanno neanche dire più o meno dove abitano, di che zona sono. Però raccontano ai poliziotti che entrambe erano state avvicinate durante il loro orario lavorativo da questa coppia. Gli avevano riconosciuti perché erano delle persone un po' particolari, intendono proprio come modo di porsi, come modo di parlare. Avevano proposto ad entrambe di partecipare a una festa privata, dicono che praticamente stanno organizzando un addio al celibato per un loro amico e che hanno bisogno di una ballerina per intrattenere la serata. Fino a qua tutto bene o male, plausibile, la cosa che stranì entrambe e che le portò poi a rifiutare questa proposta era il fatto che offrivano loro 700 dollari, che da quanto sanno loro, insomma, per quel tipo di serata è davvero tantissimo. Cioè è davvero strapagare. Quindi ad entrambe aveva fatto un po' strana sta cosa dei 700 dollari. Avevano pensato che magari volessero altro, non solo un ballo, diciamo così, quindi avevano rifiutato tutte e due. Quindi si conferma ancora di più questa ipotesi di serialità, un po', di quello che era accaduto. Purtroppo però queste due ragazze non riuscirono a dare nessun tipo di informazione identificativa su queste due persone, quindi per quanto preoccupante la loro testimonianza non portò a molto. Il caso rimane fermo per ancora qualche giorno, fino a quando finalmente qualcuno contatta la polizia perché ha riconosciuto queste due persone. Gli ha riconosciuti un vicino di casa e li identifica come Terry Speaks e Margaret Sanchez. La polizia quindi recupera il loro indirizzo da questo vicino e prima ancora di allarmare loro, di iniziare a parlare con loro, portarli in centrale, eccetera, iniziano a informarsi un po' sul background di queste persone, non solo indagando su di loro ma anche chiedendo ai vari vicini, alle varie persone che vivevano nell'area. Iniziano dal vicino stesso, dalla persona insomma che ha contattato la polizia per identificarli. E questo vicino dice che il giorno dopo la scomparsa di Jaren, aveva visto i suoi vicini uscire da casa loro con dei grossi sacchi della spazzatura, se ne ricorda almeno tre, e sembravano sacchi pesanti, cioè li portava Terry, che comunque come potrete vedere dalle foto era un uomo ben piazzato e faceva fatica a trascinarli. Nel momento in cui aveva visto questa cosa, questa persona stava facendo una passeggiata, quindi ad un certo punto passa proprio di fianco a Terry con questi sacchi della spazzatura e sente un odore particolare che lui identifica come un odore di spazzatura, magari quando la spazzatura rimane per un po' lì prima di essere portata via, che fa quell'odore un po' particolare, e in più sente allo stesso tempo, cioè con questo odore, un fortissimo odore di candeggina. In ogni caso non ci pensa più di tanto, continua con la sua passeggiata e nota che Terry sta caricando quei sacchi sulla macchina. Si fanno descrivere da lui e altri vicini che tipo di persone fossero Terry e Margaret. Margaret viene descritta da tutti come una ragazza un po' strana, sono parole, cioè proprio testuali parole, la descrivono come strana sia esteticamente che socialmente. Esteticamente perché si vestiva in maniera un po' eccentrica, un po' particolare. Dicono ad esempio che indossava degli abiti lunghi, molto eleganti, però con ad esempio un cappellino da baseball, uno zainetto, insomma associato ad altre cose magari di uso più quotidiano. Per quanto riguarda lo strana socialmente, sembrava un po' asociale, cioè sembrava rifugisse un po' il contatto con le altre persone, o anche il semplice saluto cordiale che i vicini le rivolgevano. Dicono tra l'altro che Terry viveva in quella casa da molti anni e che solo da un anno, circa un anno e mezzo, era arrivato a vivere lì anche Terry. Terry viene descritto come pericoloso. Preparatevi, perché tutto il quartiere, perché no, non dico tutto il quartiere, però almeno i vicini che lo conoscevano, tutti sapevano che era ricercato. E a me questa cosa ha stranito tantissimo, cioè c'erano diverse persone che sapevano che Terry fosse ricercato e non hanno mai avvisato la polizia di questa cosa. Vuoi per paura, vuoi per omertà, vuoi per il classico, la classica sensazione di non sono fatti miei. Con questa informazione ovviamente la polizia decide di controllare i precedenti di questo Terry e viene fuori che è ricercato in Carolina del Nord. Cosa è successo praticamente in Carolina del Nord? Una serie di precedenti, aggressioni varie, eccetera, e il reato quello più grave, ovvero che a quanto pare Terry aveva avuto un rapporto sessuale consenziente con una minorenne. Per questa cosa ovviamente si era preso una sorta di libertà vigilata che non aveva rispettato. Quindi funziona, cioè non so se anche qua, comunque funziona che se ti danno la libertà vigilata e tu non la rispetti, finisci in prigione, cioè proprio senza passare dal via direttamente. Quindi era capitata questa cosa, sarebbe dovuto andare in prigione e poi era scomparso. Su Margaret invece, indagando per i fatti loro non dalle parole dei vicini, scoprono che anche lei era una ballerina in tutta una serie di locali, molti dei quali dove solitamente lavorava anche Jaren. Terry e Margaret si erano conosciuti proprio in uno di questi locali, cioè Terry era andato lì come cliente e Margaret lavorava lì. Si erano messi insieme nel 2009 e da allora erano rimasti una coppia. Scoprono sentendo altre persone che avevano lavorato nei locali dove avevano lavorato in passato sia Jaren che Margaret e viene fuori una cosa sconcertante, ovvero che Margaret e Jaren erano amiche, erano passate da colleghe ad amiche. Cercano di ricostruire il possibile viaggio che era stato fatto da quella macchina che il vicino aveva visto con i sacchi della spazzatura per cercare di capire se era plausibile che poi fossero andati nei vari punti in cui troveranno poi i resti. Ed effettivamente la macchina di Terry viene ripresa da diverse videocamere di videosorveglianza in tutti i vari punti, cioè in una strada lungo i vari punti in cui poi verranno ritrovati i resti. Quindi nonostante ancora non ci fossero collegamenti direttissimi, DNA eccetera con il caso di Jaren li arrestano perché comunque è abbastanza per iniziare un'indagine. Well, neighbors tell us that this is where Margaret Sanchez lived. Take a look behind me. Police are actually searching this home as we speak right now. If you can see, there are members of Kenner Police Department. Also, there are bags of evidence right there in front of the house and a dog, a cadaver dog, actually just came out of the backyard. So they are actively searching this scene, removing evidence as we speak. We did speak with some neighbors who said that the couple had lived here for a while. she had lived here much longer. He had just recently moved here in the last year or so and that they were quiet and kept to themselves for the most part. They did see them more in the evening. Now, the neighbors tell us that this is unbelievable and in fact, even though that they hadn't met them very much, that when they saw the surveillance video on television that they knew immediately that that was indeed Terry Speaks. Margaret e Terry con la polizia non aprono praticamente bocca. Non inizialmente, perché poi l'apriranno la bocca e come. Quindi, non avendo purtroppo altro, perché a questo punto non avevano tracce di DNA che li collegassero effettivamente a Jaren, avevano solo una videocamera di sorveglianza che li riprendeva a uscire nello stesso momento dal locale. Tutto il resto delle prove erano prove circostanziali. Decidono di perquisire ovviamente la casa in cui vivevano Terry e Margaret e trovano in un computer un sacco, ma un sacco tipo centinaia di mail che i due si erano mandati. Nella mail parlano tranquillamente di quello che è accaduto quella notte. Anzi, si minacciano a vicenda di tradirsi, cioè di denunciarsi a vicenda praticamente. Una frase ad esempio che dice Margaret a Terry è tanto sei tu quello che friggeranno bruceranno sulla sedia elettrica. La polizia dopo aver trovato queste lettere le fanno vedere separatamente a Margaret e Terry e la polizia a questo punto i vari detective attua una cosa abbastanza furba secondo me ovvero a questo punto hanno paura che cosa succede? Che uno dei due magari si prenda la colpa per l'altro e quindi che riescano effettivamente a farne condannare solo uno dei due ovviamente non volevano che accadesse una roba del genere quindi invece di fare la classica cosa tipo dai lo sappiamo che tu non hai fatto niente in colpa l'altro no? cioè per farsi fare la confessione cercano di metterli l'uno contro l'altro tentano di dire guarda che lui sta parlando e tu non stai parlando il primo che dice cos'è successo si becca uno sconto guarda che in questa mail lei ti minaccia di raccontare tutto alla polizia eccetera eccetera cercano di metterli uno contro l'altro di far sì che uno dei due non si sentisse in vena di difendere l'altro e questa cosa funzionò alla perfezione probabilmente già c'era un trascorso perché quelle email dove si minacciavano erano pre ovviamente di essere beccati Terry e Margaret iniziano a incolparsi a vicenda ora purtroppo per questa cosa di attaccarsi a vicenda cosa è successo ufficialmente non si sa bene fatto sta che da quello che viene raccontato comunque in comune sembrava che si trattasse di un qualche tipo di movente sessuale quello che sappiamo di per certo è che avevano cercato di convincere prima altre ballerine come quelle due che avevano parlato alla polizia di andare con loro per qualche motivo nessuna aveva accettato quindi Margaret aveva sfruttato il fatto che Jaren fosse una sua amica si fidasse di lei per incastrarla di fatto molto probabilmente questa cosa è stata pianificata da entrambi per settimane mesi forse prima che accadesse probabilmente non avevano l'intenzione di farlo a una persona specifica infatti appunto prima chiedono ad altre poi infine insomma a Jaren la cosa che fa pensare alla polizia che questa cosa sia stata pianificata per mesi è che in un cellulare nel cellulare di uno dei due troveranno una foto che in realtà era stata cancellata però riuscirono a recuperare una foto di Margaret e Terry proprio sulla spiaggia dove verranno trovati i resti alcuni dei resti di Jaren e quella foto era stata fatta tipo un mese prima rispetto alla scomparsa di Jaren ma era stata cancellata dal telefono due giorni dopo la scomparsa di Jaren quindi non poteva trattarsi di una coincidenza in casa purtroppo di Margaret non troveranno nessuna traccia che potesse collegarli insomma a Jaren troveranno però nel giardino un contenitore di metallo dove all'interno era stato bruciato qualcosa non riuscirono a capire che cosa perché era davvero tutto polverizzato però la polizia pensa che si siano sbarazzati magari di qualche prova magari i loro indumenti sporchi di sangue proprio bruciandoli così in ogni caso il fatto che si incolpassero così a vicenda fu abbastanza per la giuria perché nel 2015 condannarono all'ergastolo Terry e nel 2016 condannarono Margaret non proprio all'ergastolo ma le diedero 40 anni per partecipazione all'omicidio di Jaren più altri 40 anni per il fatto che lo aveva aiutato a disfarsi del corpo e altri 20 anni ancora per non aver detto niente alla polizia e queste condanne cioè 40 40 e 20 sono 100 anni e sono tutte condanne che dovrà scontare consecutivamente cioè non è che ne sconta 40 e come se doveva scontarne prima 40 poi altri 40 poi 20 il che equivale essenzialmente a un ergastolo il grande problema di tutta questa cosa è che ufficialmente non sono riusciti a trovare un vero e proprio movente la teoria della polizia ed è anche sinceramente la mia teoria cioè sono abbastanza convinta che sia l'unica cioè l'unica cosa plausibile è proprio il movente sessuale cioè che hanno deciso di fare questa cosa di uccidere una persona per un qualche tipo di fetish o appagamento sessuale di qualche tipo mi risulta davvero strano arrivare a credere però che Margaret abbia scelto di fare una cosa del genere ad un'amica per il fatto che le altre non si erano fidate cioè ha palesemente sfruttato il fatto che Jaren si vidasse di lei perché era un'amica e soprattutto ha anche sfruttato il fatto che in quel periodo Jaren si trovasse in una condizione economica disastrosa cioè aveva davvero bisogno di soldi per convincerla ad andare con loro la famiglia di Jaren ovviamente è stata distrutta da quello che è accaduto Jeremy continua a prendersi cura di Riley di sua figlia che per colpa di delle azioni di queste due persone sarà costretta a crescere purtroppo senza probabilmente neanche il ricordo di sua madre perché era molto piccola quando è accaduto questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi come al solito fatemi sapere cosa ne pensate del caso soprattutto quale pensate potesse essere il muovente perché purtroppo non sono riusciti a constatarlo con certezza grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video come al solito vi ricordo se volete sostenere il canale assicuratevi di essere iscritti lasciate un mi piace un commento condividete questo video con altre persone per il caso di oggi era tutto noi ci rivediamo con un prossimo video grazie a tutti